Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Finalmente notizie interessanti dal punto di vista della legge di bilancio 2022 per quanto riguarda le uni familiari, o meglio, le singole unità e il tetto ISEE. Prima di parlartene, lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e controlla i contenuti per gli abbonati. Su Gumroad o qui su YouTube puoi accedere a dei video esclusivi dove rispondo alle domande che mi inviate via email. Oggi sarà un video brevissimo e di aggiornamento sulle ultime notizie che riguarda l'approvazione della legge di bilancio o meglio, la commissione bilancio che ha approvato alcune delle modifiche che poi dovranno essere approvate definitivamente alle camere che riguardano le uni familiari. Ci sono anche altre modifiche sulla legge di bilancio riguardo alle proroghe e le modalità di proroga dei vari bonus compreso il super bonus, ma in particolare in questo video ti parlo delle uni familiari che per il 2022 fino al 31 dicembre 2022 potranno essere agevolate con il super bonus senza il limite del tetto ISEE di 25.000 euro che era stato imposto nella seconda versione in entrambe le versioni della bozza della legge di bilancio 2022 ed è stato eliminato anche il vincolo della prima casa. Quindi, quindi, se verrà approvata questa versione, perché la settimana prossima tra Natale e Capodanno avremo la versione definitiva approvata, le uni familiari avranno la scadenza al 31 dicembre 2022 per il super bonus 110 senza il limite dei 25.000 euro di ISEE e senza il limite della prima casa. Però sembra che verrà inserita una percentuale del 30% da raggiungere al giugno un po' come quella del 60% per gli edifici di unica proprietà che è attualmente attiva cioè per arrivare al 31 dicembre è necessario che a giugno 2022 si siano raggiunti almeno il 30% dei lavori. Ne discuteremo nei prossimi video, vedremo cosa succederà e quali saranno le versioni definitive e prepariamoci a delle live molto corpose. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!